Buongiorno FTA Online, Borsa Debole questa mattina, abbiamo infatti il Fuzzimib in caso all'1% circa, siamo intorno ai 15.100 punti, si mantiene al di sopra dei minimi del 16 l'indice, la reazione vista però nella seduta del lunedì per adesso non ha avuto un seguito, servebbe il superamento almeno di area 16,6-16,650 per fare intravedere la possibilità di un rimbalzo più ampio con obiettivi che potrebbero andare inizialmente a 17,5 e poi sui 20.000 punti, per adesso la situazione rimane delicata, rimane delicata anche perché il dollaro resta forte, questo è il grafico dell'euro dollaro intraday, vedete i prezzi hanno violato ieri questa linea di tendenza che potrebbe essere vista come la base del testa a spalle ribassista che si è disegnato dal massimo del 3 di marzo e anche se questo non dovesse essere un testa a spalle, in ogni caso la violazione della base di questa fase laterale che si era disegnata tra il 12 e il 17 di marzo è un segnale di debolezza, abbiamo visto che ieri i prezzi sono scesi sotto la linea, l'hanno testata con precisione dal basso e questa mattina sono nuovamente in discesa, la forza del dollaro ovviamente non è una buona notizia in generale per l'Europa, significa che in questo momento c'è ancora molto diffidenza nei confronti della situazione europea e quindi anche delle sue borse, consideriamo che questa forza del dollaro viene nonostante i ripetuti tagli dei tassi da parte della Fed, quindi con un differenziale dei tassi che a questo punto si è praticamente annullato tra le due monete, situazione difficile anche per il petrolio, questa mattina Morgan Stanley ha abbassato le proprie stime relative al secondo trimestre sul Brent da 35 a 30 dollari, quindi poco sopra i livelli attuali di circa 28 dollari, solo per l'anno prossimo intravede una discesa, questa mattina il future sul crude oil, quindi sul WTI è tornato intorno ai 26 dollari, quindi vedete il tentativo di reazione che c'era stato nel corso delle ultime sedute per adesso è abortito, ovviamente all'andamento del prezzo del greggio è in parte imputabile la difficoltà delle borse senza una ripresa delle quotazioni del petrolio, sarà difficile vedere un rimbalzo forte dell'azionario, anche perché questo elemento trascina a ribasso tutto il settore oil, cosa potrebbe accadere adesso? Vediamo che il prezzo del greggio è inserito in questo canale decrescente, la base del canale era intorno ai 30-31 dollari e la sua violazione ovviamente non depone in favore di un proseguimento del rimbalzo, i minimi di questa mattina sono sui minimi che il future del greggio aveva toccato all'inizio 2016, se dovesse esserci una chiusura di seduta al di sotto di questi livelli, vedete quanto sia importante questo supporto, c'è un rischio elevato di una ulteriore fase calante, prendiamo in considerazione il grafico ad elementi settimanali, vedete sotto area 26 non ci sono altri supporti se non i minimi del 2001 che sono decisamente più bassi dei livelli attuali, si posizionano intorno ai 17 dollari, quindi ci sarebbe sotto in caso di chiusura di seduta al di sotto i 26 dollari, il rischio di un ribasso di alti 10 dollari circa che in termini percentuali, visti i prezzi attuali vorrebbe dire veramente un ulteriore importante crondo. Cosa volevo fare oggi? Volevo guardare il discorso dei trading system, ovviamente nella giornata di ieri ho messo sulla nostra pagina Facebook un articolo relativo proprio a come si costruisce e come si utilizza un semplice trading system basato sui media mobili, ho visto che c'è stato molto interesse, quindi volevo riprendere l'argomento utilizzando il Fuzzimib Future come riferimento, questo è il grafico giornaliero del nostro Future, iniziamo proprio dalle basi, mettiamo una media mobile sul grafico, ad esempio la media mobile a 200 periodi, volevo farvi vedere un po' come si ragiona utilizzando la media mobile da un punto e vista non qualitativo, ma quantitativo, è vero che la media mobile funziona come livello di supporto e di resistenza, vedete come spesso i prezzi quando arrivano in contatto con la media o in prossimità della media la sfruttino come resistenza o come supporto, c'è però un utilizzo diverso che si può fare di questi strumenti, ovvero sia un utilizzo meccanico, possiamo ipotizzare ad esempio che tutte le volte che i prezzi tagliano dal basso verso l'alto la media mobile, quindi procedendo in questa direzione, venga inviato un segnale di acquisto, quindi ci sia un'indicazione di andare a intraprendere una posizione a rialzo, viceversa nel momento in cui l'incrocio tra i prezzi e la media è dal alto verso il basso, quindi con questa direzione, in quel caso possiamo ipotizzare di essere in presenza di un segnale di vendita, quindi con questa semplice considerazione abbiamo già costruito un trading system molto basilare, tutte le volte che i prezzi incrociano dal basso verso l'alto la media mobile, abbiamo un'indicazione d'acquisto, tutte le volte invece che lo fanno in senso opposto, cioè dall'alto verso il basso abbiamo un segnale di vendita. Questo tipo di ragionamento funziona bene, possiamo immaginare che la curva dei prezzi, visto che la media mobile è un indicatore che funziona, che viene calcolato sulle chiusure, possiamo immaginare che la curva dei prezzi sia a sua volta semplicemente una media mobile ad un periodo, se usiamo un grafico lineare che passa per le chiusure è come se immaginassimo che il nostro sistema è basato non su una sola media mobile e sull'incrocio di prezzi, ma su due media mobile, una a una seduta e una, in questo caso 200 sedute. Questo spunto ci permette di fare un passo avanti e di immaginare che la nostra media mobile ad un periodo, quindi quella che corrisponde al grafico dei prezzi, sia in realtà formata da una media con un intervallo di calcolo diverso. Ipotizziamo ad esempio la media mobile a 50 giorni, perché ho scelto questi due parametri? Perché in analisi tecnica, ma anche a livello di media, si fa molto spesso riferimento a due termini, che sono DEF Cross, che è l'incrocio delle medie mobili a 50 giorni e a 200 giorni a ribasso, e che è visto come un segnale di forte debolezza, perché si usano le medie a 50-200 giorni, questo viene fatto per convenzione, non c'è l'idea che queste due medie siano il riferimento migliore da utilizzare, semplicemente sono due tra le medie più utilizzate da chi segue i grafici e quindi l'idea è quella di combinarle in modo da ottenere dei segnali di acquisto e di vendita nel momento in cui le due medie si incrociano, quindi invece di guardare l'incrocio tra la singola media mobile e i prezzi, spostiamo il nostro ragionamento sulla coppia delle medie mobili, quindi tutte le volte che la media mobile più veloce, cioè quella a 50 giorni, incrocia dal basso verso l'alto, la media mobile più lenta, cioè quella a 200 giorni, in questo caso le nostre medie sono esponenziali, ma solo perché sono le medie che utilizzo io normalmente, quindi lo stesso ragionamento si può fare anche sulle medie semplici, ho un segnale d'acquisto e tutte le volte invece che la media più veloce, la 50 giorni, incrocia dall'alto verso il basso, la media lenta, quindi la 200 giorni abbiamo un segnale di vendita, quindi la nostra dead cross, un termine che è tornato d'attualità negli ultimi giorni perché come vedete questo incrocio si è appena realizzato con la media a 50 giorni che è passata al di sopra della media a 200 giorni. L'ultimo segnale di acquisto dato dalle due medie era stato in questa situazione, quindi a inizio di aprile 2019, il nuovo segnale di vendita è stato invece dato nella seduta di lunedì. Il problema di questo sistema qual è? È che essendo due medie entrambe abbastanza lente, che descrivono molto bene da un punto di vista grafico l'alto del trend, quando andiamo a considerare solo i punti di incrocio, sembrerebbe che l'interpretazione della tendenza sia abbastanza accurata, nel senso che abbiamo avuto un segnale di acquisto all'inizio di questa fase rialzista, seguito da un segnale di vendita quando le vendite sono incrociate in senso opposto qui all'inizio della fase ribassista, un nuovo segnale d'acquisto e un segnale di vendita nel momento in cui il mercato è girato al ribasso, il problema qual è? È che il segnale di vendita inviato due giorni fa in realtà corrisponde alla chiusura, anzi diciamo che il segnale è stato inviato il 13 di marzo, quindi nella giornata di venerdì, ma ovviamente siccome il segnale viene dato in chiusura, in realtà io avrei potuto chiudere la mia posizione di acquisto aperta a aprile dello scorso anno solo in avvio di seduta del 16 di marzo, quindi se andiamo a guardare quale sarebbe stato il risultato dei suggerimenti di questo trade, avremmo avuto che avrei chiuso a 15.180 punti una operazione di acquisto che si era avviata più o meno a 21.125 punti, quindi con un risultato che vedete è decisamente negativo, anche se le indicazioni che il nostro sistema ci aveva dato fino a questo momento erano invece state abbastanza interessanti. Andiamo a vedere da un punto di vista di valutazione quale sarebbe il risultato di questo trading system, se noi facciamo calcolare al nostro sistema i risultati del trading system, vedete queste frecce rosse e verdi corrispondono ai segnali di acquisto e di vendita, riportati però sul grafico dei prezzi rispetto all'incrocio delle medie e questa è in alto la equity line, quindi è la somma dei guadagni e delle perdite delle perdite permessi dal sistema di trading. Che cosa si nota? Si nota che la equity line è crollata da un guadagno del 165%, perché la equity line parte da quota 100, da un guadagno del 165% accumulato in un periodo che è di 11 anni circa, quindi dal 2000 ad oggi e in un solo trade si è perso praticamente la metà dei guadagni che era realizzato nel periodo precedente per colpa di questo ampio movimento che c'è stato nelle ultime sedute. È evidente che questo sistema ha sicuramente dei vantaggi, degli elementi da tenere presenti da un punto di vista di indicazioni grafiche, però non può essere seguito in termini di trading system perché ci espone a dei rischi troppo elevati, essendo poco reattivo nei confronti di quelli che sono i movimenti del mercato. Che cosa ho fatto io allora per cercare di modificare il sistema e renderlo più rispondente alle esigenze di chi fa trading? Semplicemente ho introdotto una nuova regola, anzi un nuovo set di regole che però si basa sempre sugli strumenti che abbiamo già visto, in questo caso ho semplicemente aggiunto la regola innanzitutto che perché il sistema ci dia un segnale di acquisto o di vendita, non solo le due medie devono essere incrociate a rialzo o ribasso, ma i prezzi devono essere al di sopra della media mobile a 200 giorni nel caso di un segnale rialzista e al di sotto della media mobile a 200 giorni in caso di un segnale ribassista e ho introdotto un'ulteriore regola che la posizione a rialzo o a ribasso viene chiusa nel momento in cui i prezzi attraversano ovviamente in chiusura la nostra media mobile. Detto in modo più chiaro, se io vado a testare il nostro sistema sempre sul grafico del nostro Fuzzimib con il nuovo set di regole che vi ho citato, ottengo una situazione di questo genere. Mettiamo le nostre due medie sul grafico, così diventa molto più facile seguire l'andamento del sistema, come prima la media mobile a 200 giorni è quella più spessa e quella più sottile invece la media mobile a 50 giorni. Andiamo a ricostruire quelli che sono i segnali che vengono dati dal nostro sistema, vedete nel momento in cui partiamo da questa indicazione, nel momento in cui le due medie mobili si incrociano con la 50 che sta al di sopra della 200, viene inviato un segnale d'acquisto, quindi la nostra freccia verde, che viene seguito perché le quotazioni sono al di sopra della media a 200 giorni. Nel momento in cui le quotazioni scendono al di sotto della media mobile a 200 giorni, io attivo il mio stop loss, praticamente interrompo la mia posizione d'acquisto, infatti c'è questa bandierina che mi dice exit, le medie mobili rimangono però incrociate a rialzo, quindi tutte le volte che i prezzi ritornano al di sopra della media mobile a 200 giorni, riprendono la posizione a rialzo, quando ne scendono al di sotto la neutralizzo nuovamente, quando i prezzi salgono al di sopra della media e le due medie sono incrociate a rialzo, come in questo caso mantengo una posizione rialzista, vedete praticamente io sono, finché c'è un trend rialzista non ho mai dei segnali di vendita, conservo sempre dei segnali di acquisto perché opero solo nella direzione della media, ovvero quando i prezzi sono al di sopra della media a 200 giorni e le medie sono incrociate a rialzo, io eseguo un'entrata in acquisto, tutto questo fino a che i prezzi non scendono al di sotto della media mobile a 200 giorni, cosa che in questo caso è avvenuta il 27 febbraio e a quel punto sospendo la mia operatività pur non entrando in vendita, perché l'operazione di vendita è stata suggerita solo nella seduta di lunedì, ma in ogni caso la mia posizione di acquisto che aveva aperto a fine agosto viene chiusa con un guadagno dal momento che la sensibilità del sistema in questo caso è decisamente più elevato di quello che abbiamo visto prima. Ancora meglio sarebbe la situazione se io utilizzassi un sistema più veloce, quindi se andasse a ridurre l'intervallo che utilizzo per le mie medie mobili, quindi invece di utilizzare la E50 e la 200 giorni, utilizzasse le medie a 20 e a 100 giorni, vedete la equity line che prima era a 180 circa, in questo caso sale a 220 perché utilizzando due medie più veloci, non solo ho avuto il segnale di uscita nel momento in cui i prezzi sono scesi al di sotto della media mobile a 100 giorni, di uscita dalla mia ultima posizione a rialzo in acquisto, ma ho avuto anche un segnale di vendita anticipato rispetto a quello che è il mio andamento precedente, scusate la media più veloce in questo caso è quella a 20 giorni, non quella a 50, quindi vedete il mio segnale di vendita è stato inviato in corrispondenza della seduta del 5 di marzo e quindi sono intervenuto in vendita in avvio della seduta, quindi in apertura della seduta del 6 a 21.065 punti e per adesso sto ancora mantenendo la posizione, è evidente che come in tutti i sistemi di trading l'equity line sale con maggiore decisione nel momento in cui il trend ha una direzione più netta e invece tende magari a mettersi laterale, quindi i guadagni e le perdite più o meno si equivalgono nelle fasi in cui il mercato diventa laterale, però questo approccio utilizzando due medie più veloci con una regola di filtro, ovvero si, la ripeto, opero a rialzo solo nel momento in cui i prezzi sono al di sopra della media più lenta e chiudo la mia posizione a rialzo quando i prezzi scendono al di sotto della media più lenta, quindi introduco anche una regola se vogliamo di stop loss, mi permette di guadagnare nel momento in cui il trend si muove in maniera netta e veloce e di bloccare le perdite nel momento in cui il trend lateralizza, quindi praticamente sfrutto quelle che sono le parti buone del mercato. Ovviamente la stessa cosa la posso fare anche sull'intraday, questo è il grafico sempre del future Fuzzinib con scansione oraria, se vado a mettere le mie due medie a 20,50, in questo caso ore e non più sedute, vedete come anche qui la coppia di medie mobili mi dia delle indicazioni positive, abbiamo in questo caso la 20 ore e la 100 ore, restringiamo un attimo all'orizzonte temporale per vedere meglio quali sono i segnali, vedete ad esempio in questa situazione ho avuto un segnale d'acquisto perché i prezzi erano al di sopra della media più lenta e le due medie si sono incrociate a rialzo, poi qui che cosa è successo? Prima i prezzi sono scesi al di sotto della media più lenta, quindi della media a 100 ore e io ho chiuso la mia posizione a rialzo con un bel guadagno e successivamente quando anche poco dopo le medie si sono incrociate a ribasso, ho intrapreso una posizione in vendita che è tuttora aperta, quando verrebbe chiusa questa posizione? Quando i prezzi dovessero andare al di sopra della mia media mobile a 100 ore che al momento è intorno ai 18 mila punti? Oppure nel momento in cui queste due medie dovessero incrociarsi a rialzo, ma probabilmente quello che accadrà prima nel caso è che i prezzi salgano con un rimbalzo di sopra della media più lenta. Infine volevo farvi vedere che è possibile anche ovviamente ottimizzare i parametri, qui abbiamo utilizzato delle coppie di parametri standard, le medie a 50 e 200 e le medie a 100 periodi, ma ovviamente si può cercare di fare ancora meglio ottimizzando i parametri, chiedendo al nostro sistema di suggerirci quali sono i parametri migliori da utilizzare nel caso volessimo utilizzare quelle che sono le medie migliori per il nostro sistema. Nel caso del Futsimib Future le medie che risultano le migliori, che ci danno una performance ottimizzata sono la 34 giorni per la media veloce e la 115 giorni per la media lenta, quindi mettiamole sul grafico 34 esponenziale e 115 esponenziale, vedete queste sono le medie che in questo momento fino adesso, considerando l'andamento passato, ci hanno dato la performance migliore. In termini di equity line, vedete la equity line che cresce con una bella costanza nel tempo, oppure magari si mette laterale per un certo periodo, ma non ritraccia troppo dei suoi guadagni precedenti, al momento ci dà un guadagno sul periodo di analisi del 220%, mentre quella che abbiamo visto non ottimizzata ci dava un guadagno del 220%, quindi c'è circa un 100% di guadagno di differenza ottimizzando le medie, questo che cosa vuole dire è che ovviamente in teoria per ogni mercato dovrei andare a scegliere quelli che sono i parametri migliori da utilizzare, questo magari potrebbe essere una cosa che potrei farlo per alcuni mercati, per alcuni indici e poi aggiungere i parametri ottimizzati in uno specchietto che potrei caricare sulla pagina Facebook, magari anzi sicuramente lo farò prossimamente per concludere l'argomento che abbiamo affrontato oggi. Spero che possa essere stato utile questo intervento, vi invito come sempre a commentare i video, in questo caso soprattutto visto che si tratta di un video educational, quindi suggeritemi quelli che sono i temi che sono di vostro interesse, magari fatemi le vostre richieste sulla pagina Facebook per ulteriori chiarimenti se ci sono delle cose che non vi sono risultati comprensibili. Vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.